Oluwe Oluwe Vai Okoronku Esattamente com'è Oale Ebere Ebi Ebi No Wabu Ma chi è questo? Questo mi metto in difficoltà Aspetta Perché non l'ho mai vista Nwa Elsei Nwa buoku Speriamo non giochi Nwa buoku Comunque com'è scritto Speriamo non giochi Ma buoku Le prime telecronache che io ho fatto Di calcio maschile Sulla Lega Pro Ricordo benissimo che Quando io arrivavo allo stadio A commentare la partita Chiaramente chiedevo Dove era la cabina della RAI Per andare in telecronaca E questi puntualmente Mi mandavano invece in tribuna stampa Dove andavano tutti i giornalisti E poi proprio sentivo che si voltavano E dicevano Le donne Ma perché poi le mandano il calcio Che non capiscono niente Non sanno neanche cosa vengono a fare allo stadio Io in realtà sapevo benissimo E la mia domanda invece era 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 giusta E solo che per loro era assolutamente Assurdo pensare Che io Fossi il commento tecnico Quindi l'esperta di calcio in telecronica Saranno Germania e Nigeria A dare via agli ottavi di finale della Coppa del Mondo